Ben trovati l'ATG della mobilità venerdì 20 maggio, sciopro del trasporto pubblico nell'ambito di un'agitazione generale dei settori pubblici e privati. A Roma la protesta interesserà le reti ATAC e Roma TPL. Stop saranno possibili dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Nelle stesse ore l'agitazione interesserà i collegamenti regionali. Cotrat, possibili ripercussioni anche sull'attività al pubblico di Roma Servizi per la mobilità. Questa mattina dalle 7 a fine esigenze verrà chiusa il traffico via del Campo Boario da Piazza Vittorio Bottego a Piazzale Ostiense. Le vetture della linea 83 in arrivo dal capolinea Val Sabbia, giunte in via Zabaglia, altezza via Galvani, svolteranno su via Galvani, via Marmorate e Piazzale Ostiense, da dove riprenderanno il normale percorso. Nessuna deviazione per i bus provenienti dal capolinea di Piazzale dei Partigiani.